La scelta unilaterale di dare la doppia cittadinanza è certamente divisiva a far ritornare l'Europa parecchi decenni fa. Il cancelliere Kurz è stato molto conciliante invece nel colloquio che ha avuto con me, ma anche nel corso delle dichiarazioni che ha dato, comprese quelle di ieri. Quindi nessuna scelta verrà fatta dall'Austria in maniera unilaterale e qualsiasi proposta verrà valutata, esaminata e fatta insieme alla Repubblica italiana. Mi sembra una scelta di buon senso, come condivido la scelta europeista fatta dal cancelliere, questa missione a Bruxelles dimostra che l'Austria vuole restare pienamente protagonista della politica europea. Noi vigileremo affinché si continui a lavorare in questa direzione. Nel corso dell'incontro ho posto al cancelliere la questione della riforma di Dublino che dovrà essere risolta durante la presidenza austriaca, se non ce la faremo durante la presidenza bulgare. Il Parlamento ha già deciso, ha votato, c'è una proposta di riforma concreta, è una base di dialogo e di decisione importante. Gli Stati membri devono fare la loro parte e mi auguro che prima la presidenza bulgare e poi quella austriaca ci permettono di avere una riforma di questo sistema.